Radio Globo presenta Ciao Renato! Ciao Renato! Ciao Renato! Scrivetemi! Ciao Renato! Allora regia sei pronto? So pronto, so pronto, ma tu sei sicuro che sta cosa con le dediche e canzoni può andare? Ma certo regia, da che esiste la radio si fanno le dediche Appunto, la gente se sarà pure rotta di sentire sempre le stesse cose, famo una cosa diversa Ricordate regia, non è importante quello che fai, importante è come lo fai, ammazza che ho detto E allora se lo fate, siamo rovinati Vai con la sigla! Banda le ciance, vaga la sigla, dai! A Ciao Renato, l'angolo delle dediche musicali Salve amici di Ciao Renato e ben arrivati al nostro nuovo spazio di dediche e richieste Vediamo chi è il primo, Nettuno da Santa Marinella Oddio scusate, Marinella da Nettuno, vuole dedicare Margherita di Riccardo Gocciante al suo ragazzo con un messaggio Amo, la pizza di ieri mi sei rinfacciata tutta, mi sa che non digerisco più la mozzarella Perché Margherita è buona, perché Margherita è bella Ne approfitto per mandare un salutino al mio amico Riccardo Gocciante, Richard Gocciante Che da quando ha fatto il gobbo non ho più sentito Riccardo chiamami, ho in mente un musical sui buffi e tu saresti perfetto Per le musiche intendo Se sarà offeso? Ma andiamo avanti Lucrezia dedica la sua amica Dina Rimmel di De Gregori con un messaggio Anfame, mi ha finito tutto il mascara Se non me lo ricompri ti spunto tutti i rossetti Renato c'è una telefonata Pronto? Già Renato, sono io Agatì, ma che vuoi? Non c'ho tempo Non senti che sto a fare dedica con richiesta? Eh, ma io proprio quello voglio fare Vorrei dedicare Nuvola e Lenzuola dei Negramaro e la mia amica Ervira con un messaggio Ervise sta a nuvolare a cogliere Lenzuola Ma andiamo avanti Questa è una dedica con richiesta un po' particolare Infatti i colleghi di Costa Crociere vogliono dedicare al comandante Francesco Schettino La bellissima Tra te e il mare De Laura Pausino Bene, dedica con richiesta finisce qua Mi raccomando, se c'avete qualche dedica da fa' Scrivetemi Regia, mi pare che è andata bene, no? No Certo che te per incoraggiare le persone sei il meglio Renato voleva dedicare Fuck You di Lili Allen a quello da regia con un messaggio Mora ammazzato, ho detto in francese Ciao Renato! Sorcini miei, il podcast di Ciao Renato è online Andate su radioglobo.it per ascoltare tutte le puntate Andateci! Vi vedo, eh